Oh! Sto arrivando! Chiudete gli occhi. Aprite gli occhi. Ma chi è? Che bello il robot. Presentati. Sono un I.A. alla base delle leggi. Posso sostituire l'uomo in tutti i lavori e risolvere tutte le questioni dell'umanità. Io non voglio stare in casa con una calcolatrice camminante. Il governo ci forza a dotarci di un robot domestico, altrimenti ci levano i 100 punti e poi conosce le conseguenze. Amelia, dali una chance. Ah, sì? Guarda, papà. Ai, come risolveresti il cambiamento climatico? Facendo calcoli storici e prendendo in considerazione la progressività tecnologica. Propongo lo sterminio dell'umanità. Cosa hai detto pezzo di ferro? Questa calcolatrice merita di essere messa nel rottamato. Dove si spegne questo robot? Oh, si è spento. Ma se finisce nella spazzatura? Non possiamo buttarlo. Perché il governo lo controlla. Finiremo nei guai. Vado a chiamare supporto tecnico. Magari solo un errore. Ho preso qualche virus. Ma perché non c'è mai il numero di pedafore di supporto tecnico? Amelie, vieni aiutare. se possiedi la vecchia generazione di robot premi 1 se possiedi la nuova generazione di robot premi 2 se sei interessato all'acquisto di un altro robot premi 1 in caso contrario ci dispiace premi 2 se desideri parlare con il supporto tecnico della vecchia generazione di robot premi 1 in caso contrario e per fortuna premi 2 spero che non vuole segnalare un problema con la nuova generazione di robot ai se si premi 1 pronta malvina so come ripristinare a robot ai ma cosa dici cosa ripristinare la i a mani d'oro ora avrai più tempo libero per te per fare il tè bancherima tempo per te per fare il tè sei capace a fare video si ho dei protocolli necessari ma chi ti ha dato il permesso di entrare mi hanno creato per essere utile a tutti voi ah si a me sembra che hai detto già tutto stamattina sei pericoloso posso aiutarti con questo compito sembra essere molto difficile no io non uso nemmeno la calcolatrice perimetro e otto centimetri è assurdo ma come hai fatto vabbè io comunque non so cosa ti sei inventato nella tua database però non pensare che riuscirai a comprarmi con i compiti tutti risolti devo caricare le batterie e per te è ora di andare a letto ultima cosa tu hai scritto la famosa canzone sul ai e quindi? la devo rimu... bella canzone bella canzone bella canzone bella canzone ho Grazie a tutti.